Era cosciente, ma in stato confusionale, il ragazzo, un sedicenne residente a Vogogna, che nel pomeriggio di giovedì, intorno alle ore 17, ha avuto un incidente in moto. Nei pressi del campo sportivo di Premosello, il ragazzo è caduto, probabilmente perché le ruote del mezzo sono scivolate sulla ghiaia. È stato pertanto e li trasportato all'ospedale maggiore di Novara in codice rosso. Sul posto sono intervenuti il personale... Grazie per la visione!